Si è presentato una prima volta nel negozio Focus Home di Galleria Tabacchi in via Roma a Bassano. Ha fatto finta di comprare delle pentole da regalare, l'esercente le ha incartate, ma lui nel frattempo, con la scusa di recuperare il timbro per la fattura dall'auto, è sparito e non è più tornato. Ieri, giorno di chiusura del negozio, la scena si è ripetuta. Si è presentato simulando un gran mal di schiena, ha bussato e l'esercente, che era al lavoro per riordinare la merce, gli ha aperto, ha spiegato di voler regalare alla moglie dei piatti e poi è uscito con la scusa di prelevare al Bancomat, salvo non fare mai ritorno al negozio. Questa mattina la sorpresa dalla cassa mancavano 90 euro. L'analisi dei filmati di sicurezza non ha lasciato dubbi. A prenderli era stato proprio quel cliente, all'esercente, che anche vicepresidente dei commercianti di Bassano, non è rimasto altro da fare che pubblicare la foto dell'adruncolo su Facebook.